ciao ragazzi io sono nicolò bentornati sul mio canale oggi come potete ben vedere recensione della jordan 4 in colorazione metallic gold una scarpa molto molto semplice e molto particolare allo stesso tempo quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito con l'unboxing scatola secondo me veramente molto molto carina come potete vedere box completamente bianco con i dettagli in colorazione oro possiamo trovare infatti sul coperchio il jumpman con la scritta flight in oro lucido mentre il resto della scatola presenta la semen print nella stessa colorazione oro lucida nome ufficiale della scarpa è women's air jordan 4 retro in colorazione sail metallic gold black il black onestamente non so dove caspita l'abbiano visto però andiamo avanti come vedete questo è un 43 ci sarà comunque un onfit non sarà l'onfit migliore del mondo se non riuscite a prendere soltanto questa taglia quindi ce la facciamo andare bene lo stesso quindi a questo punto direi di andare a dare un'occhiata alla scarpa jordan 4 sail metallic gold sicuramente una delle jordan 4 più clean che sono state rilasciate negli ultimi tempi tomaya come potete vedere interamente in colorazione sail secondo me tonalità scelta veramente molto bene un'ottima tonalità di sail che non è né troppo tendente al bianco né troppo tendente al giallo potremmo definirlo quasi un color latte tomaya interamente in pelle liscia che come potete vedere non sembra essere della migliore delle qualità o comunque se la pelle magari anche di buona qualità quello che sicuramente non mi ha colpito è lo strato di vernice che hanno deciso di applicarci hanno scelto una buona tonalità però si vede veramente tanto lo strato di vernice che c'è al di sopra ed è quasi fastidioso e probabilmente potrebbe anche finire per un po rovinarsi questo strato interamente bianche anche le retine classiche del modello jordan 4 e quindi sono bianco tono su tono oppure sail tono su tono sia la retina che il mesh al di sotto particolare in questo caso l'aletta classica della jordan 4 non è in gomma come al solito ma bensì in pelle si tratta infatti di due pannelli di pelle ricuciti uno insieme all'altro anche in questo caso sono della stessa tonalità ovviamente i dettagli più impattanti sono i passanti per i lacci in questo caso in plastica dura rivestiti in vernice color oro ed è proprio da qui che arriva il dettaglio del metallic gold lucidi spiccanti appariscenti che possono essere nascosti soltanto da un pantalone molto molto baggy come vedete io negli on fit ossia indossato un pantalone abbastanza stretto in modo da farvi vedere per bene tutta la scarpa sia un pantalone baggy per farvi capire come sarebbe l'effetto cercando di andare a nascondere questi dettagli di metallic gold missione non compiuta del tutto perché quelli davanti purtroppo continuano a essere visibili quindi a questo punto star a voi decidere se quel tipo di dettaglio può piacervi lo stesso o se invece è veramente un deal breaker e non vi farà indossare questa scarpa proseguendo possiamo trovare nella parte posteriore della scarpa il classico back tab della jordan 4 in questo caso in una tonalità leggermente ancora più tendente verso l'hotmail come colorazione in cui possiamo trovare semplicemente il nostro jumpman infatti non si tratta di una colorway oggi si tratta di una colorway completamente nuova quindi è corretto che non ci sia il nike air altro particolare che possiamo trovare sulla scarpa è il logo jumpman con la scritta flight che diversamente dal normale delle jordan 4 non è ricamato al di sopra di un'etichetta ma si trova direttamente impresso nella pelle della scarpa secondo me questo rende questa jordan 4 ancora molto più clean un dettaglio molto leggero però secondo me ben posizionato per quanto riguarda i lacci vengono inclusi soltanto questi qui in colorazione bianco sale che va a riprendere perfettamente il resto della tomaia della scarpa e onestamente sono contento che abbiano incluso soltanto questi lacci perché si ci sarebbe potuto stare un laccio oro però sicuramente non l'avrebbe usato nessuno e sarebbe stato esageratamente tamarro per quanto riguarda la tomaia è praticamente tutto l'imbottitura interna è bianca niente da denotare non particolarmente imbottita quindi direi che possiamo passare a dare un'occhiata alla suola che possiamo vedere essere composta di come al solito due diversi materiali poliuretano e la gomma la parte in gomma quella più anteriore potremmo definirla è in colorazione sale leggermente più ingiallito rispetto al resto della tomaia mentre i restanti pannelli ovvero l'inserto qui davanti e la parte posteriore sono decisamente più lucide come tonalità e più tendenti a una colorazione latte secondo me questa parte più lucida della suola aggiunge veramente tanto alla scarpa e riesce a dare un po più di dinamismo alla colorway stessa cosa non facile quando stai facendo una scarpa completamente bianca la outsole è semplicemente sale con un piccolo jumpman che non è in colorazione oro ma è più tendente a un'ocra in realtà per concludere per quanto riguarda la soletta interna è molto semplice bianca ormai classica dei modelli jordan con il nostro piccolo jumpman in colorazione oro sicuramente una jordan 4 super abbinabile si tratta di un modello rilasciato in taglia da donna quindi la taglia più grande che è stata prodotta è il 44 e mezzo ciò non significa però che si tratti di una scarpa solo femminile in realtà secondo me indossata nel modo giusto può essere tranquillamente indossata da chiunque onestamente vedendomela al piede mi è piaciuta anche molto di più di quello che mi aspettavo e devo dire che i dettagli in oro non mi hanno infastito come pensavo non credo che la terrò in collezione ma semplicemente perché non credo che la utilizzerei abbastanza però onestamente vi direi di non lasciarvi troppo influenzare da questi dettagli in oro perché fortunatamente non hanno esagerato e quindi generalmente la scarpa risulta essere una jordan 4 completamente bianca parlando di release la data ufficiale era il 9 di marzo il prezzo di retail di 210 euro ma non disperate perché a quanto pare una seconda parte della release avverrà domani 16 di marzo per il momento sono state rilasciate dall'applicazione sneakers e pochi altri siti ma tanti altri invece le avranno a disposizione domani e probabilmente anche nelle prossime settimane tramite raffle o tramite drop diretto ed è proprio per questo tipo di drop che entra in gioco fury notify un q group al 100 per cento italiano dal costo di 25 euro al mese che vi darà tutte le informazioni che vi servono per riuscire a prendere questa scarpa fury notify vi aiuterà dandovi la lista di tutte le raffle disponibili che sono ancora aperte tutti i siti che le avranno a disposizione online o magari anche in negozio oltre a darvi un sacco di consigli su come riuscire a prendere queste scarpe perché non basta avere la lista dei siti ma servono anche delle competenze competenze che fury notify provvederà a fornirvi infatti grazie al loro supporto uno a uno eccezionale sono sempre disponibili ad aiutarvi e a insegnarvi a capire come funziona questo mondo e anche una volta che sarà effettivamente terminato il drop di questa scarpa ci saranno dei leggeri stock su vari siti ed è proprio qui che entrano in gioco i monitor customizzati super veloci di fury notify che vi possono notificare personalmente ogni volta che anche soltanto un paio di questa scarpa verrà reso disponibile su un sito quindi se siete interessati link in descrizione la divisione dello stock è stata abbastanza particolare infatti nonostante si trattasse di un modello da donna la maggior parte dello stock era posizionato verso le taglie da uomo ovvero dal 41 42 in su questo ha fatto sì che le taglie più piccole si trovino al momento a un prezzo di resa è leggermente più alto intorno ai 270 euro mentre le taglie un po più grandi si trovano intorno ai 250 che comunque rispetto ai 210 euro di retail si tratta di un buon profit per quanto riguarda il futuro io onestamente penso che queste scarpe saliranno si tratta di una colorway molto vestibile di una scarpa molto richiesta quindi non vedo perché questa scarpa non dovrebbe arrivare a prezzi decisamente più alti durante i prossimi mesi per quanto riguarda la taglia non so aiutarvi al 100% so che queste scarpe non dovrebbero calzare esattamente allo stesso modo della jordan 4 bread quello che posso dirvi è che di norma i modelli women si modelli da donna sono più stretti lateralmente e leggermente più lunghi sulla punta quindi in caso non vogliate avere dubbi e vogliate avere una scarpa più comoda al piede io vi consiglio di andare con mezza taglia in più rispetto alla vostra taglia naturale jordan mentre se volete una scarpa che calzi un po più aderente e che si lascerà andare nel tempo perché è pelle si lascerà andare e si ammorbidirà nel tempo andate con la vostra taglia naturale e magari avrete problemi per la prima settimanina ma poi la scarpa prenderà la forma del vostro piede e non avrete più problemi quindi ragazzi per questa veloce recensione della jordan 4 metallic gold è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se voi l'avete presa se avete intenzione di prenderla ma soprattutto se voi infastidiscono i dettagli in oro se questa recensione vi è piaciuta e come al solito invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao